1, 3, 7, 2, 6 numero importantissimo non palindromo che può essere molto utile a fare in modo che ancora di nuovo la cultura continui a regnare in questo stato in cui ci troviamo numero straordinariamente utile a fare in modo che i vostri danari raggiungano le nostre casse e con questo la nostra compagnia possa continuare a girare, girare per tutto il globo girare almeno per tutto il paese e trasmettere questo messaggio di fratellanza, di uguaglianza, di alchimia che solo Cristina di Svezia sarebbe stata in grado di portare anche nel nostro secolo